Dunque vediamo avanzare i nobili che abbiamo conosciuto per coloro che hanno assistito all'uscita del corteo all'inizio. Vediamo tornare adesso a corte i nobili de Nardis, accompagnati dalle loro leggiadri figliore, notate l'inchino, la grazia particolare con la quale questi nobili si producono. E poi abbiamo i nobili da Nardi, vediamo una grande presenza di figli e femmine. Questi nobili si capisce perché si squattrinarono ben presto con tutte le doti che dovessero fornire. E poi abbiamo i nobili ruzzi, i nobili viti, i nobili spataro, i nobili crisci.